Claudia, a cena, filetto, io so che tu normalmente non sei un appassionato di vino no, bevo molto poco però ti hanno incastrato a Vinitaly a Vinitaly, una bellissima esperienza ho cominciato a capire alcune cose che magari prima non conoscevo e ora sto mangiando un buon filetto allora ti do dei poteri magici, metti al collo questo e vediamo, è la prima volta che provi a degustare un vino vediamo come viene dai, ti aiuto, è un chianti classico se io vengo da Firenze, vai tra il naso, la bocca molto buono, di ciliegia, molto fresco, abbinato con la carne, è eccezionale vabbè, hai fatto il primo passo del mondo, è emozionata? bene, emozionatissima adesso ti toccherà fare un bel po' di Vinitaly per recuperare un bel po' per imparare e recuperare, assolutamente l'importante è che stringi il castedain dai sempre e ti da te lo porto sempre con me esatto, così diventi immediatamente esperta va bene bene, grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille